ciao a tutti benvenuti e ben ritrovati qui sul canale della cucina chimica eccoci al quarto appuntamento dei video di molecole stupefacenti in questa playlist andiamo ad esplorare le caratteristiche biologiche di alcune fra le sostanze di abuso vi ricordo che tutti i video sono al solo scopo di affrontare le caratteristiche chimiche farmacologiche di questi composti e saranno di carattere divulgativo e nella descrizione poi troverete tutti i riferimenti bibliografici sempre sperando di non dimenticarne nessuno siamo al quarto video di questa serie continuiamo con un altro composto anfetamino simile come avete già visto dalla grafica della copertina parliamo di mdma la cui sigla significa metilendiossi metanfetamina ovvero ecstasy se vi interessa vedere i precedenti video su cocaina anfetamina e metanfetamina trovate i link sotto in descrizione insieme a tutte le fonti bibliografiche i discorsi generali sulla classificazione sulle proprietà i meccanismi di azione sono già stati spiegati più nel dettaglio nei precedenti video quindi andate a vederli come sempre ecco qui ciò che vedremo così andrete a selezionare gli aspetti che più vi interessano parleremo un pochino della storia dell'exasi dove nasce e come si diffonde poi affronteremo la struttura chimica gli effetti sulla salute del meccanismo d'azione lo acceneremo brevemente dato che comunque tutta la trattazione è stata già affrontata nel video dell'anfetamina e della metanfetamina l'mdma viene sintetizzata in germania nei primi del 1900 venne usata anche in terapia da alcuni psichiatri negli anni 70 anche se non era mai stata realmente approvata per una sperimentazione clinica in questo senso il suo uso ebbe anche un modesto seguito da parte degli specialisti e venne anche chiamata la pennicillina dell'anima in quanto facilitava la comunicazione specialista paziente in alcuni soggetti sembra che questa psicoterapia abbia dato esiti positivi nel frattempo però inizia purtroppo il periodo della diffusione illegale al di fuori del circuito medico sempre più o meno negli stessi anni fu dichiarata illegale negli anni 2000 vi sono state anche alcune sperimentazioni autorizzate dall'fda per l'uso delle mdma in disturbi post-traumatici da stress quindi si parla di sperimentazioni sotto stretto controllo medico parliamo di ecstasy quindi conosciuta come la droga dei club purtroppo ampiamente diffusa tra i giovani chimicamente viene chiamata 3 4 metilen diossi metanfetamina è quindi strutturalmente correlata come lo si sente dal nome con l'anfetamina e la metanfetamina in più però reca il gruppo funzionale costituito da due atomi di ossigeno legati da un ponte metilene ch2 eccolo qui lo vedete alla sinistra e quindi una molecola di sintesi non si estrae da nessuna pianta l'ecstasy ha una potente azione stimolante molecole similari all'mdma come l'mda oppure l'mdea o ancora mdoh mbdb e molte altre vengono annoverate in una categoria definita entactogeni come appunto leggete nella slide è una parola poco usuale viene coniata proprio per spiegare l'effetto particolare di queste sostanze entactogeno vuol dire sostanzialmente generatore di contatto infatti chi ha fatto uso di ecstasy riferisce di avere un maggiore grado di contatto interiore con se stesso ed ha una migliore interazione con il mondo esterno è una molecola che fa sentire pieni di energia e sembra anche che induca una distorsione del tempo e dello spazio ed è anche in grado di aumentare la sensazione di piacere delle esperienze tattili strutturalmente la maggior parte di questi entactogeni sono delle fenil etil ammine c'è anche però qualche triptamina certe volte ci si riferisce agli entactogeni come allucinogeni o come molecole stimolanti anche se ci sono molti entactogeni che presentano anche delle proprietà allucinogene comunque qui il confine è sempre abbastanza sottile in che forma si assume questa sostanza beh la possiamo trovare come pasticche o capsule quindi un'assunzione per via orale e dato che è rinomata come la droga dei club solitamente viene associata anche a dei drink alcolici ovviamente è ben noto che questa associazione può avere degli effetti devastanti e ne parleremo in seguito anche qui ripetiamo i contesti sono alle volte i più disparati e in queste preparazioni non vi è solo l'MDMA ma vi sono anche diversi altri composti più o meno neurotossici quindi il soggetto va ad assumere un mix di sostanze qui vi propongo un'interessante diapositiva presa da un opuscolo di informazione dove leggiamo i soprannomi per l'ecstasi il soprannome più conosciuto forse è pillola dell'amore proprio perché come abbiamo detto prima sembra amplificare le percezioni tattili basse dosi di questa molecola possono avere effetti neurotossici spiccati andando a causare effetti negativi sul microcircolo cerebrale oltre chiaramente al danno neuronale effetti che sono comuni anche alla metanfetamina quali sono gli effetti negativi beh qui si riportano alterazioni di memoria visiva verbale della capacità della scelta ci sono problemi anche di autocontrollo possono esserci degli attacchi di panico nei soggetti in astinenza paranoie effetti di flashback disturbi del sonno disturbi dell'umore difficoltà cognitive di concentrazione e anche depressione inoltre possono esserci dei significativi effetti di aumento della pressione sanguigna e problemi nella regolazione della temperatura corporea poi inappetenza contrazioni mascellari e agitazioni psicomotorie il discorso dell'appetenza poi diciamo è abbastanza generale per tutte le anfetomine l'avevamo già visto vengono riportate anche sensazioni dove le persone sotto questo effetto si sentono per esempio altre cose oppure animali oggetti e anche qui chiaramente si manifesta questo potere entactogeno allucinogeno della molecola che porta poi a uno stato confusionario in cui il soggetto viene proprio gettato in esperienze passate che possono essere negative spaventose e che possono anche bloccarlo senza che lui chiaramente si renda conto di quello che gli sta succedendo intorno e poi immaginiamo anche che queste droghe vengono somministrate in ambienti dove è difficile comunicare per esempio per la musica alta per l'elevata concentrazione di persone quindi anche per i soccorsi aiutare questi soggetti diventa veramente complesso oltre l'MDMA con delle piccole modificazioni strutturali purtroppo compaiono nuovi composti alcuni già li abbiamo menzionati ma qui ce ne sono degli altri per esempio vedete la blu mystic il 2ct7 eccetera come pathway biochimici e metabolici tutte queste molecole li hanno abbastanza simili gli effetti sono più o meno sovrapponibili e anche qualche volta abbiamo effetti amplificati per quello che riguarda la struttura chimica lo abbiamo già accennato nell'introduzione l'MDMA è simile all'anfetamina e alla metanfetamina dove però differisce per il gruppo funzionale metilendiossi e come si può capire bene aggiungendo questo gruppo funzionale si ottiene anche un effetto diverso la farmacocinetica già sappiamo essere come si muove il farmaco nell'organismo l'ecstasy può essere assunta per via orale in alcuni casi viene anche sniffata quindi abbiamo anche la via di somministrazione inalatoria viene bene assorbita e il picco plasmatico si raggiunge in circa una due ore l'emivita del farmaco si aggira intorno alle 6-7 ore qui vedete i pathway metabolici dell'ecstasy ovvero l'MDMA e fra i principali metaboliti c'è l'MDA cioè metilendiossi anfetamina anch'essa di per sé attiva ed è una sostanza d'abuso è ottenuta per demitilazione dell'ecstasy come si vede e l'MDMA può anche subire un'apertura del ponte metilenico dando poi un derivato categorico questo qui con 2 OH poi gli intermedi vengono anche ossidati insomma avvengono diverse reazioni voglio soffermarmi un pochino sulla N demitilazione allora si tratta di una reazione ossidativa catalizzata dal sistema del citocromo P450 più precisamente dalla isoforma CIP2D6 questa isoforma non è espressa da tutti allo stesso modo quindi possono esserci dei soggetti che la esprimono in quantità notevoli e quindi sono chiamati metabolizzatori rapidi e dei soggetti invece che la esprimono poco e vengono chiamati metabolizzatori lenti dov'è il punto? è che al di là che ci possono essere differenze tra i sessi però se un soggetto è un metabolizzatore lento può assumere una dose di MDMA e questa può risultare addirittura fatale e quindi portare alla morte il soggetto ci sono stati dei casi di morti fra giovani proprio alla prima assunzione della sostanza perché evidentemente erano dei lenti metabolizzatori quindi hanno assunto una dose per loro fatale effetti sulla salute molti abbiamo detto sono in comune con l'anfetamina con la metanfetamina visti nei video precedenti in questa diapositiva vengono divisi in effetti a breve termine e a lungo termine molti insomma li abbiamo già menzionati non è che mi soffermo a lungo si vede che risultano dal rilascio massivo di catecolamine dovuto all'ecstasy il discorso del potere entactogeno ed allucinogeno poi si manifesta con percezioni alterate enfatizzazione delle situazioni vissute dal soggetto e anche con sperimentazioni di esperienze negative insomma una sorta di flashback molto poi dipende dai vari soggetti dalla loro attitudine anche ad assumere stupefacenti o altri stupefacenti in genere e poi ci sono anche le differenze biologiche come abbiamo accennato appunto per le espressioni delle isoforme enzimatiche qui vi è anche un'altra slide che riporta tutti gli effetti indesiderati l'MDMA sembra non dare una vera e propria dipendenza ma i soggetti che poi si ritrovano in situazioni di club o di rave party possono voler da riassumere e tendono anche ad aumentare le dosi sempre per sperimentare maggiori sensazioni già durante una sola serata si è soliti riassumere la sostanza e come abbiamo detto si assume insieme ad alcolici eccetera un aspetto interessante è che i consumatori dell'ecstasy vengono considerati dei recreational drug user cioè persone che assumono queste sostanze solo in determinati contesti quindi il club la discoteca o il rave al di là delle mere motivazioni personali che possono spingere all'uso di questa sostanza e magari a voler provare questi stati di coscienza alterati i soggetti non si considerano tossicomani volevo anche poi aggiungere solo due parole sulla neurotossicità e neurodegenerazione che induce l'ecstasy allora già negli anni della comparsa dell'MDMA si iniziò ad avere il sentore che fosse neurotossica però non tale da avere degli effetti che compromettessero seriamente e permanentemente la salute dell'uomo quando invece negli anni 70 iniziarono le sperimentazioni come abbiamo detto per sfruttare i benefici nella psicoterapia si è bella prova che gli effetti indesiderati superavano di gran lunga quelli positivi quindi insomma era meglio non continuare a usarla purtroppo però sempre negli stessi anni l'MDMA aveva trovato spazio nel mercato illegale la neurodegenerazione è notevole infatti si ha una graduale perdita delle funzioni cognitive uno dei motivi sembra essere dovuto ai cambiamenti che si hanno nelle vie serotoninergiche probabilmente o alla tossicità diretta dell'MDMA o anche dei suoi metaboliti e anche alla formazione dei radicali liberi il meccanismo preciso però alla base di questa neurotossicità ancora non è stato chiarito e concludiamo quindi il video sull'ecstasy ho provato a portare dei contenuti per fornirvi spunti su cui riflettere riguardo la problematica delle sostanze d'abuso se volete aggiungere qualcosa approfondire o dirmi che cosa ne pensate scrivetelo qui sotto nei commenti sarò felicissimo di leggervi e di rispondervi in quanto i feedback le critiche le ulteriori informazioni servono a completare il contenuto dei video in generale come sempre vi ricordo che se avete piacere di iscrivervi al canale supportarmi è molto molto semplice basta cliccare su iscriviti e il gioco è fatto e se desiderate potete anche attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità è tutto sempre gratuito per qualsiasi informazione o curiosità scrivetemi alla cucina chimica chiocciola gmail.com e noi ci vediamo al prossimo video